Bentornati sul canale D&D, ci apprestiamo a fare una delle missioni forse più semplici di 3D2, un saluto a tutti! Ciao! Diciamo che renderemo una missione facile e difficile, diciamolo. Ah, sarà difficoltà a palmio. Nino, sei tu il capo squadra? Vai, quando vuoi, partiamo. No, in realtà sei tu il capo squadra. Cretino. Nel senso che tu mi dai l'ok per partire, capito? Sappiamo i ruoli, li sappiamo bene qua. È lui che registra, io eseguo gli ordini, no? Io sono tua moglie. Ma no, tu sei mio marino. Allora che ho scopato ieri sera? Nostro figlio! Dopo di questa dovremmo aggiungere che la vita è approvata dalla chiesa questo video. Prima di cominciare, avete notato che quando cominciamo a giocare su Payday 2 siamo delle persone davvero sgradevoli, mentre invece siamo su altri giochi? Non lo usiamo così tanto. Cosa devo fare? Allora, dobbiamo aprire questi furgoncini simpatici simpatici, però detti da questi simpatiche simpatiche persone. Ok. Così mi sembra tutto una cosa molto, molto, molto divertente, molto party. Siamo qua di dirci, avanti. È un pigiama party alla terra. Non dobbiamo fare il pochello? Siamo tutti col pigiama grigio, guarda. Il bambino col pigiama grigio. Eccoli. No, ma c'è un muro invisibile che mi impedisce di avanzare. Il muro invisibile è nella tua testa. Infatti in realtà non esiste. In realtà io sto giocando da solo. Lo sapete che io ho la difficoltà maggiore perché ho i pixel morti proprio sul mirino, quindi è una goduria. Ma il brutto è che tu sei... aia, flashbang, aia. Cretino, mi hai tirato un flashbang. Non sembri così in pericolo, Davide. Eh? Aia. Aia. Stronzo. Ah, quanto mi mancavano le esclamazioni di giro. Oh, vedo l'asterisco. Vedo l'asterisco. No, no, no. Vedo l'asterisco. Ragazzi, ragazzi, miracolo. Miracolo. Ha visto l'asterisco. Te l'ho detto che il problema di impostazione nel contrasto era elevato e quindi il bianco non lo vedevo. Sì, sì, c'è. Esatto, c'è. Posso usare? Posso usare un po' di tutto come silviatore? Sì, sì. Imposta che si possono usare i gatti perché non puoi usare in polizio. È vero. Mi sembra che sia stato anche ritirato dal commercio quel gioco. Bulldozer. Non penso sia mai arrivato in commercio. No, Kuroka e Taser insieme è proprio una copiata che non vi raccomando. Io vi ricordo che non posso correre. Cioè, corro ma fatica. E non ho sbloccato la vita. No, no, c'è un cecchino dietro di me. C'è un cecchino dietro di me. Mi sta puntando, mi sta puntando. Mi sto ammazzando un cecchino col puntino a pompa. Mi dà te, avete i medichi piccoli? Sì. Io ho quelli grandi. Che sono piccoli. Perché devi sempre essere te al centro dell'attenzione? Ah, ma ragazzi, c'è un giocatore umano. Sì, da venti minuti, mettenne di accordo. Non siamo su Alien Swarm. Eh, ma io dopo aver sempre lo scontato siamo solo noi tre. Il trapano che hai appena sistemato si già rinceppa. Che sono trapani di merda. Aiuto, ho finito i proiettili. Uccidilo a bestemmia. Ma io sono una persona religiosa. E poi ti bevi il caffè col ginseng. Ma, bere il caffè con il ginseng? Anzi, il ginseng, perché il caffè al ginseng non esiste. Ahia, ahia. Quindi è ancora peggio, non hai rovinato un caffè col ginseng. Hai proprio semplicemente preso il ginseng? Sì, perché? Tu ti bevi piante spacciandole per ottimo caffè. No, non ho mai detto che sia caffè. Secondo te che mi faccio avere il battito cardiaco a 200. Mi vedo tutto rallentato io. E vi sento anche tutti adattati. Ma potrò capirvi solo una volta che avrò rallentato. Esatto. Dovrò scaricare il video e velocizzare. In realtà stiamo parlando in balle tenese. ci puoi indicare lo scuoto. Tori, chissà che cosa stai dicendo. Esatto. Oh dai, di questa terra. Ma non ti vedo, ma tu hai sposto. Guardi che prima l'ho tirata su, quindi... No, non l'hai tirata su un caffè nessuno. Sì, sì, quando c'era il cecchino che l'hai ucciso con il fucile a pompa, chi è che ti ha tirata su? Babbus. Ok, perché tu che sei anche cecchino dovevi amare il fucile a pompa e non l'hai fatto. Cosa ho detto? No, tu dovevi amare il cecchino. Sono confuso. Che cosa è andato storto? Ecco, ecco, ecco. Vediamo adesso come salva. Ma Finn, come al solito. Sono stordito, sono stordito. Cioè lui ha sempre una scusa, vedi? Se noi... Il medico non deve essere stordito. Lui lo fa apposta, quando noi stiamo per morire lui va da un taser e gli fa, oh, 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 vai, 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 ora, ora. Ho bisogno di una scusa, bisogno di una scusa. Davide i cecchini. Eh, vieni qua perché non ho... Proiettili. No, no, non mi sparare, non mi... Ti ho detto non mi sparare. Non è stata gentile. C'è della gente che sta uscendo dal negozio accanto. Mi tirate su. Arrivo. E' un Kuroka, ti avverso. Eh, eh, io c'ho un cecchino. Mi... Quanto tempo... Quanto tempo hai, Davide? Non riesco bene. 13... 12... Eh, sono giù. No... No... Devo... Devo sbloc... Devo sbloccare il prima possibile l'abilità per correre perché non ho qui. Ma qualche puttana. Grazie, Davide, per avermi salvato per l'ennesima vota. Lei non può morire dall'altra parte della mappa e pretendere che io, senza alcuna abilità, venga a salvarla. E chi è il medico? Chi è il medico? Non sono io il medico. Secondo me no, non hai l'inspire. Non è essere il medico. Io... Tu puoi tirarmi su con un tasto. Davide, siamo in ambiti... In zone, possiamo giocare con le saponette adesso. Tra un po' arrivo anch'io. No, tutta terra con la roba. Riabbio? No, 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 aspetta. Ancora non è tutto perduto. Vi salverò, amici. Press, già? Ma... hai visto sta roba nuova? No, cosa hai fatto? Cioè, mi è comparsa la scritta... Ah no, ma questo è... Aia, aia, aia. Come hai fatto rientrare? Aspetta, premi... Prende il tasto salta per poter essere rilasciato dalla custodia. Cos'è, una sorta di fuga? Non lo so. So solo che ci... Non è qualche abilità a qualcuno? Io non la faccio. Chi non l'ha fatta? Davide, sono grigio. Sì, 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 sì. Perché... aia! Ma... E non ridere? La sua è solo invidia. No, non è invidia, è rabbia perché tu non me ti eravamo su. Quando ero giù. Lei si aspetta troppo da me. Lei è una grande delusione, lo sappia. E non sono il primo che... E non è il primo che te lo dice oggi. Esatto. Ma non vedi con che occhi ti guarda tuo padre? Il primo, il primo, primo, primo che te l'ha detto? Probabilmente è stato il medico che ti ha tirato fuori. Quello sento. O forse lo stefica, non so. Signor Campisi, questo un giorno verrà ginseng. E tuo padre è lì a sbattere la testa sull'ore. Signore, suo figlio... Cos'è? Maschiofemia! È una delusione! Quindi è femmina. No, ma un giorno lo sarà. No. Ah, che bello, è incinta. Cos'è? Un maschio o un aborto? Io ve l'ho detto, questo gioco ci rende cattivi. Ma perché sei andato, Tizzeri? Sì. Ah, c'abbiamo il... il... il bunker? Ah. È vero, perché sei andato? Ma sei disconnesso o sei abbandonato? No, sei andato. Secondo me, tu non l'hai tirato su e... sei incattato. Ah, che flashbang! Perché il tuo personaggio, David, ha detto... Tazer? PROSTATA! Prostata. Perché è ciò che pensa di Tazer. O, 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 o... Doizer! Do-do-ru-zer! Do-do-ru-zer. Do-do... No, c'è... C'è questo. Moldozer elimina! Cazzo, ho finito proiettili. Cazzi tuoi E lascio qua sulla macchina? Grazie per essere così specifico Sono evidenziati in verde Li vedi attraverso i muri Credi conto Me l'hai lasciata sulla macchina dove stanno facendo l'assalto Non ti ho detto che sarebbe stato facile Ah c'è ancora Quanti ce ne so Sai quella di questo? Il gioco non ti conta gli assist Ci sono i check-in Questo è un gioco per uomini duri O lo ammazzi o non lo ammazzi Aiuto Aiuto Eh giro alza il culo Alza quel cazzo di culo Maledetto Quanto sono lento Quanto 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 Una lumaca Avrei bisogno di un medic Quanto 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 Mi sono salvato Ma l'hai fatta pasta venire da me? Si 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 Ho sentito che correva E cominciò a correre come un disperato Flashbang 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 You shut me down Flashbang Flashbang My baby shut me down Ok Nino A te Perché Da un taglio dovrei mettere questa canzone Ovvio Era già previsto Ma che è che ci sta portando via le borse? Non dobbiamo lasciarle qua scusa Ah no è dall'altra parte Ah abbiamo preso la gabbia E perchè dall'altra parte Ah abbiamo preso la gabbia Guardate qua Wow ragazzi non l'avevo mai presa la gabbia Cos'è la gabbia? Mi di cosa stai parlando? E' una malattia? Ah vabbè dove ho mai richiesto Quella è la sgabbia Questina Esatto, cantante delle lacune coi Ho sentito un taser Taser Com'è che lo chiama Giro? TASER Un po' come tutti gli altri Non è originale in questo Ringraziamo l'host che non ha portato la sega Bravo 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 Abbiamo proposto di eviare Stia zi Davide non hai portato una sega Ti rendi conto? Ragazzi le grigliate non porti una sega Porca puttana continua a mancarla mia Ok L'abbiamo fatto Via 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 Nooo L'ha caduta la borsa No l'ha presa Dove? Dove? No niente niente L'ha calcolata anche se non è entrata dentro Checchini 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 Grazie andiamo 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 Ragazzi ce l'abbiamo fatta Quindi ora noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo No col pene Gameplay con o senza il pene Ma sempre qui su Ma perché stai masticando il microfono? Suddine Il giorno 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 No nino No nino No nino No nino No nino No nino